Il riconoscimento del diritto di cittadinanza ai figli dei cittadini stranieri nati e cresciuti in Italia è un provvedimento che afferma un diritto di civiltà. Lo diciamo da tempo e siamo certi che non esista un momento opportuno per discutere, anzi il momento opportuno era ieri. Questo dibattito non può continuare ad essere lasciato allo scontro e alla strumentalità politica. Si tratta di una misura che segna oggi più che mai l'idea di quale modello di società vogliamo costruire per quanto ci riguarda un modello in cui la coesione sociale rappresenta la misura su cui poggiare il nostro futuro. La coesione non può che partire dal riconoscimento dei diritti di tutti, indipendentemente dalla loro provenienza. Per questo continueremo a batterci per una legge giusta che vogliamo il Parlamento discuta il più presto per garantire proprio quel diritto di civiltà.